Studio spento, video finiti, oggi si comincia con la parte didattica, MMI Parma e quindi devo raccogliere un po' di roba, esattamente penso che prenderò il 1805, questo i cavi, tutto, le custodie, si smonta un po' perché si ricomincia a fare lezioni adesso è mattina, devo fare un po' di giri, bollettine della posta e si va quindi da oggi pomeriggio si riprende con l'attività didattica al 100%, ciao ciao studio siamo pronti, si parte, si va a MMI Parma, custodia singola e via, si in bicicletta, no come faccio a non dimenticarmi le tracole alla prossima data? le metto sulla pedaliera che viene con me e quindi sono a posto allora direi che qua si può chiudere lo studio salpetta l'ho già presa perché la temperatura è calata e allora con questo grigetto e un'ottima temperatura andiamo a MMI Parma benvenuti a MMI Parma, entriamo insieme oggi pomeriggio molto molto tranquilli c'è anche l'ufficio chiuso ora relax, in inglese, già che parla inglese e andiamo verso la mia sala si sente già la musica, ma che bello ragazzi che cantano, qua c'è la sala e siamo perfetti, adesso si comincia in inglese, adesso mi si inti Ciao a tutti, sono Giorgio Terenziani e sono qui all'MMI di Parma presso il Puzzle Studio. Iniziano i corsi dell'anno accademico 2017-2018, nello specifico per basso i corsi base, intermedio, avanzato, master e le abilitazioni all'insegnamento nel circuito MMI. È lunedì, è il giorno in cui io sono qui in sede, questa è la mia stanza, beh non proprio la mia ma è dove insegno, quindi vi aspetto, contattatemi per una lezione gratuita di prova o per venire a vedere la scuola. Ok, tutto pronto, pausa tra una lezione e l'altra, e quindi direi che facciamo un giretto per la sede, questa è la sala, Ok, sala 1, dopo abbiamo la sala 2 e la sala 3, dalla zona relax, e via. Ciao. Mi si vede? No. Mi si vede? Sì. Mi si vede? No. MMI Parma. Finito. Ci siamo ripresi un attimo, magari bisognerebbe anche pulire il vetro, ma questo è un problema che affronteremo un'altra volta. Allora, giriamo la chiave. Wow, finita la prima giornata a Parma. Direi che possiamo andare. Spegniamo il telefono, e via. Che ore sono adesso? Facciamo partire un po' l'aria condizionata, che ancora c'è un po' caldino. 24 gradi, 20.08, 21.15 a casa. Dai mo che andiamo.